Ciao, sono Luigi di Clarintux Untux per sempre. Benvenuti in un nuovo video della serie dedicata ai comandi da terminale. Prima di imparare nuovi comandi, vediamo di imparare come creare una variabile, molto facile in realtà, e l'istruzione IF. Bene, cominciamo creando una variabile di nome nome. Scusate il gioco di parole. Quindi scrivo nome uguale, apro virgolette e scrivo un nome, il mio nome, Luigi. Chiudo virgolette, do invio. Bene, a questo punto abbiamo già salvato questa variabile. Adesso, se scrivo ecco, segno del dollaro, nome, ovviamente mi stampa il contenuto di questa variabile, Luigi. Bene, cominciamo adesso con l'istruzione IF. Scriveremo IF, poi parentesi quadre, virgolette, segno del dollaro, come abbiamo visto, nome, uguale Luigi, tra virgolette, chiudo parentesi quadre, punte virgola, ten, ecco, ciao Luigi, punte virgola, else, ecco, ciao, come ti chiami, punte virgola, fi. Per chiudere l'istruzione IF abbiamo bisogno di fi. Bene, cosa farà questa istruzione IF? Ovviamente mi scrive ciao Luigi, perché va a controllare se la variabile nome è uguale a Luigi. In questo caso è uguale a Luigi, quindi mi va a stampare ciao Luigi con eco. Bene, cerchiamo di cambiare la variabile. A posto di Luigi scriviamo nome uguale Marco. A questo punto ridiamo l'istruzione IF, in questo caso mi stampa ciao come ti chiami, non più Luigi, perché questo controllo non va a buon fine, la variabile nome non è uguale a Luigi, quindi non viene eseguita questa istruzione, ma piuttosto la seconda, else, l'istruzione data con else. Bene, allarghiamo la nostra istruzione IF con una seconda opzione. Allora, intanto scriviamo di nuovo nome uguale Luigi e poi andiamo con IF parentesi quadre nome uguale Luigi then eco ciao Luigi Elif Stavolta andiamo con ELIF Apriamo di nuovo le parentesi quadre nome uguale Marco then eco ciao Marco e chiudiamo l'istruzione IF con fi Cosa succederà? Ovviamente ciao Luigi Ma se adesso andiamo a dare alla variabile nome il contenuto Marco e ripetiamo l'istruzione IF vedremo ciao Marco Se invece scriviamo nome uguale Giuseppe vedremo che ci stampa ciao non ti conosco Bene, nell'istruzione IF e nel ciclo FOR abbiamo visto il punto e virgola ma non abbiamo approfondito a cosa serve lo faremo subito Con il punto e virgola possiamo separare due o più comandi e permettere quindi l'esecuzione di tutti i comandi su una singola riga ad esempio eco ciao punto e virgola eco arrivederci verranno eseguite entrambe le istruzioni entrambe i comandi quindi abbiamo ciao arrivederci è esattamente la stessa cosa di aver fatto dapprima solo eco ciao e poi eco arrivederci esiste un'altra possibilità per eseguire diversi comandi su una sola riga end end la differenza però è che con end end il secondo comando il successivo comando verrà eseguito solamente nel caso in cui il primo comando va a buon fine adesso facciamo un esempio ls test1 ho una cartella chiamata test1 quindi faccio ls test1 ent ent eco ciao quindi verrà prima eseguito il primo comando se questo va a buon fine verrà eseguito anche il secondo comando proviamo ecco abbiamo come risposta file che è il contenuto della cartella test1 quindi il comando ls è andato a buon fine e infine abbiamo ciao entrambi i comandi sono stati eseguiti ma se avessimo scritto ad esempio ls è un qualcosa che non esiste ad esempio così poi vado con end end eco ciao cosa succede? ecco ci dice che non c'è alcun file o directory chiamata con questo nome e il comando ecco ciao non è stato eseguito affatto vedete? non è stato eseguito perché il primo comando non è andato a buon fine adesso vedremo l'opposto di end end che sarebbe or or scritto con due barre verticali con pipe pipe questo non è comunque il piping è tutt'altro il piping si fa solo con una barra con due barre abbiamo or cosa fa or? or esegue uno dei comandi specificati se il primo va a buon fine il secondo comando non viene eseguito se il primo comando non riesce allora viene eseguito il secondo comando facciamo un esempio ls test 1 test 1 è una cartella che ho quindi ls test 1 andrà a buon fine poi facciamo or or eco ciao ecco abbiamo il risultato di ls test 1 ma non è stato eseguito eco ciao se invece andiamo a riscrivere di nuovo una directory che non esiste il comando ls non andrà a buon fine e questa volta verrà eseguito eco ciao vedete? ciao è stato eseguito a questo punto direi di cominciare con un nostro primo script fino adesso abbiamo sempre eseguito dei comandi da riga di comando è possibile invece mettere insieme diversi comandi su un file su uno script appunto per poi eseguire quello script e quindi automatizzare tutti i comandi che avevamo inserito in quello script come facciamo? creiamo un file vado con nano nano ad esempio script nano script voi potete chiamare il file come volete e di solito si dà l'estensione sh quindi nano script punto sh si apre l'editor di testo nano e cominciamo con il cosiddetto shibank come si fa lo shibank con cancelletto punto esclamativo dopo di che andiamo ad inserire il percorso dell'eseguibile della shell quindi vado con slash bin slash sh potremmo anche scrivere bash se vogliamo comunque slash bin slash sh qua possiamo eseguire tutti i comandi che vogliamo ad esempio ecco ciao ls oppure facciamo p p w d poi ls cos'altro potremmo fare mkdir test2 poi un ls no facciamo un touch su test2 e lo chiamiamo file1 facciamo poi un ls di test2 va bene salviamo per eseguirlo andiamo con sh script il nome del file vedete abbiamo ciao poi c'è eseguito pv w di la directory su cui ci troviamo poi ha eseguito il ls della cartella test2 che ha creato non vediamo che qua ha creato test2 ma ve lo faccio vedere adesso esatto abbiamo la cartella test2 e poi su test2 ha creato il file 1 c'è un altro modo di eseguire gli script ma prima di vederlo impariamo una nuova flag una nuova opzione del comando ls ls era un comando semplicissimo che abbiamo sempre visto senza alcuna opzione e che ci listava il contenuto di una cartella adesso scriveremo ls meno l vedete che questa volta non otteniamo solamente il contenuto cioè i file e le cartelle presenti qua dentro ma a sinistra abbiamo anche i permessi di ogni file ad esempio il file script.sh c'ha un permesso di lettura è un permesso di scrittura per l'utente che l'ha creato r sta per lettura w sta per scrittura adesso andiamo a cambiare i permessi del file script.sh andremo a dare anche il permesso di esecuzione con il comando chmod chmod più x x sta per i permessi di esecuzione quindi chmod più x script.sh ricontrolliamo con ls meno l e vedete che questa volta script ci ha permessi di lettura di scrittura e di esecuzione a questo punto possiamo eseguire lo script scrivendo punto slash e il nome quindi punto slash script.sh e come vedete questa volta abbiamo eseguito lo script senza utilizzare sh script va bene vi mostro solamente che con ls possiamo anche mostrare file nascosti con l'opzione a quindi ls meno a e vedremo i file nascosti non ci sono file nascosti in questa cartella quindi vi mostro i file nascosti presenti sulla mia directory home ls a e vedete abbiamo tanti file nascosti che cominciano con il punto su linux ogni file o cartella che comincia con il punto è nascosto se andiamo possiamo ovviamente combinare diverse flag ad esempio ls meno la in questo modo abbiamo più informazioni ricordate che con l abbiamo più informazioni ad esempio a sinistra abbiamo tutti i permessi e vediamo anche i file nascosti direi che questo può bastare per oggi spero che il video vi sia piaciuto e ci rivediamo presto con un nuovo video ciao da clarintux